Tatooitch Italia che non dovete cagarmi il cazzo Vabbè ma io non capisco neanche perché la gente abbia reggita sta roba C'è davvero gente che mi poteva prendere sul serio in questa maniera Davvero qualcuno mi poteva prendere sul serio in queste condizioni Con tutte le robe che ho detto Nel senso bastava un minimo di scaltrezza in più Di skills mentali in più E boh capivate che si poteva tranquillamente Far prendere il suo corso a sta cosa Perché cioè guardatemi raga Sono rovinato come la merda Sto rovinatissimo Io non è che faccio Twitch perché Quando sei ubriaco dici sempre la verità Sto parlando di seriamente Ascolta mi zio vai un attimo via per favore Chat non dovete rompermi il cazzo Non chat la chat la chat la chat mi voglio bene Ma infatti stavo tutto ubriaco Non aveva neanche senso prendermi sul serio Io non capisco perché la gente mi abbia preso sul serio E si sia così tanto aizzata per creare teatrini inutili Perché raga è triste Più che altro la cosa che mi rattristisce è che Ci sono streamer che campano di questo alla fine Cioè campano di piccoli gabrone Che si ubriacano e flammano persone Cioè più o meno è così alla fine Cioè però vabbè continuiamo a vedere sta roba Faccio il cazzo che voglio Continuiamo a vedere sta roba Faccio cazzo Eh lo so lo so non è che In vino verità Vabbè l'ho bevuto In verità non l'ho bevuto neanche così tanto L'ho bevuto una grappa Un amaro E probabilmente era la quarta birra Tipo lo so Grazie amorsi per i 50 Un bacione Ci usano per fare il contenuto Vabbè ci sta Ci sta dai Aiuto a portare il piatto in tavola A qualcun altro anche Oltre che a me stesso Non dovete dirmi Che devo essere Cioè gli altri streamer Non devono Cioè tipo banalmente ragazzi no Quel pelato di Ivan Grieco Non è un insulto quel pelato È pelato Quindi è fattuale Nel senso Beh che hai ragione Non è un insulto È pelato L'ho usato come sostantivo Per accompagnare il suo nome È un pelato Non era un insulto Perdonatemi eh Ma non era un insulto Io non lo so Non ho visto la reazione Quindi Non so dire se Se l'abbiamo presa bene o male Ma in caso l'abbiamo presa male È fattuale Quel pelato di Ivan Grieco Ieri sera Poi è pure bello Quel pelato di Ivan Grieco Gli dà un Un appellativo Un pochettino più Più carino no Dai Nel senso Ci sono magari Tantissimi altri Ivan Grieco Nel mondo E possono avere i capelli Quindi Ci stava a specificare Quel pelato di Ivan Grieco Perché poteva esistere Qualche altro Qualche altro Ivan Grieco Non pelato È fattuale ragazzi È fattuale Ivan è un pelato Ivan è un pelato Lei non posso Abbiamo copiato Il suo format Degli appuntamenti al buio Quando parco di io Il format che abbiamo fatto Era americano Che cazzo vuoi Frate Che cazzo vuoi Ma non rompermi i coglioni Frate Non fare il bambino Sei infantile Zio Sei infantile C'hai 30 anni Porca madonna Quindi rompere il cazzo A due 18 anni Che fanno un format americano Zio Non rompere i coglioni Non rompere i coglioni Frate Ivan Grieco Non ho detto Tutta tu in Italia Tutta tu in Italia Ivan Grieco Oppure Ho usato Scrivere a Grimbaud Dicendo Che poi io vorrei Scusarmi Ma già mi sono scusato Comunque in privato Io mi sono scusato Vabbè Voglio scusarmi con Grimbaud Se l'ho tirato in mezzo In sta pagiacciata E Mi scuso anche pubblicamente Con lui Ma già mi sono scusato In privato con lui Quindi non è Non è che Più di tanto D'altro debba dirgli Cioè alla fine lui Non si è arrabbiato Grazie a Dio Il mio amico Sa che Purtroppo non è che sono Sono molto ragionato Ogni tanto Dico le cose Senza ragionarle Quindi Diciamo che un pochettino Ma Ma capito Grazie a Dio E Però Vabbè Volevo scusarmi anche pubblicamente Perché È un amicone Grimbaud E davvero ci tengo A lui Al di fuori di Twitch Al di fuori del Del personaggio Perché A livello umano Comunque È un mio carissimo amico E Li voglio bene Li voglio bene Li voglio tanto bene Li voglio tanto 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 Tanto